Come si è presentata in Commissione? Hanno bisogno di un ulteriore approfondimento, ricordo ad esempio Veneto Sviluppo che aiuta in questo caso le imprese a crescere ed avere un supporto dal punto di vista finanziario, oppure Veneto Acque che oggi è impegnato in modo importante per quanto riguarda la soluzione del problema di PFAS o Veneto Strade che governa la rete stradale della nostra regione. Quindi nelle prossime settimane avremo l'occasione di incontrare direzione e presidenza di queste società per approfondire gli argomenti. Un'importante valutazione sulle società partecipate da parte della regione, abbiamo chiesto degli approfondimenti che ci sembrano opportuni soprattutto per l'attività di Veneto Sviluppo. Ci sono 36 partecipate della partecipata a Veneto Sviluppo, vorremmo capire meglio l'attività finanziaria di Veneto Sviluppo anche perché la rendicontazione non è solo un monitoraggio di quello che è successo ma anche la possibilità di programmare il futuro e capire quali sono gli obiettivi a breve, a medio termine. Quindi è fondamentale analizzare come sta andando Veneto Sviluppo, valutare appunto le partecipate di Veneto Sviluppo e poi una valutazione l'abbiamo chiesta anche per Veneto Acque, un importante investimento per i nuovi acquedotti che dovranno risolvere anche la partita cruciale del FAS e quindi siamo molto molto attenti a seguire questi investimenti che farà Veneto Acque. Così è importante anche capire meglio la situazione di Veneto strade perché la partecipazione del momento di difficoltà della provincia mette in difficoltà appunto questo strumento che è fondamentale per le infrastrutture viali e per la mobilità della nostra regione. Quindi abbiamo chiesto di approfondire queste tre realtà partecipate da parte della regione che stanno particolarmente a cuore ma soprattutto disegnano e possono disegnare lo sviluppo della nostra regione.